Consigliere Pignoli, oggi presentate questa iniziativa davvero bella, significativa in vista della festa della Madonna dei Sette Dolori. Lunedì dalle 10 alle 12 i bambini diversamente abili, bambini di famiglie meno ambienti potranno andare gratuitamente sulle giostre qui a Luna Park. Sì, è una grande iniziativa. Devo ringraziare il mio amico Adam che si è messo a disposizione come ogni anno nella fornitura di biglietti per le famiglie meno ambienti e quest'anno abbiamo aggiunto una particolarità. Una particolarità, come diceva bene lei, lunedì dalle 10 a mezzogiorno tutte le giostre saranno aperte e saranno a disposizione dei ragazzi diversamente abili, infatti c'è anche la presenza non a caso di un rappresentante dell'Istituto Don Orione di Pescara e soprattutto delle famiglie meno ambienti perché non è giusto che anche nei momenti di festa ci siano delle separazioni tra chi può permettersi di pagare i biglietti e far divertire i propri figli e chi invece è costretto a far rimanere i propri figli a casa perché sarà in difficoltà economica. Questo per me è sociale, il sociale è anche farsi un giro alle giostre e farli divertire i bambini, per me il sociale è a 360 gradi. Mi auguro che ci saranno tanti bambini, sono sicuro e sarà una festa nella festa. Ripeto, voglio ringraziare ancora una volta la disponibilità del mio amico Adam che ogni anno si mette a disposizione per il sociale insieme a me per cercare di fare un sorriso anche alle persone e ai bambini che in questo momento i genitori vivono un momento di difficoltà dal punto di vista economico. E i biglietti qui il signor Adam ce l'ha già pronti per lunedì? Sì, questi sono i biglietti pronti ma lunedì non ci servono i biglietti in quanto apriamo esclusivamente gratis per queste famiglie. Voi avete aderito con grande piacere a questa iniziativa proposta dal consigliere Pignoli? Sono sensato, sono sensato, sono orgogliosi di partecipare in queste manifestazioni, anche noi vogliamo dare un contributo per contraccambiare a tutta la Giunta. Che i nostri ragazzi socializzano, si allargano al mondo esterno e da disabilità e come aveva cominciato Don Guido Sarelli tantissimi anni fa che è andato per le case a prendere i ragazzi disabili e portarli all'istituto proprio per aprirli al mondo e così oggi questo è un punto per noi bellissimo di venire qui in questo giorno di festa con i nostri ragazzi disabili e con tanti altri ragazzi che abbiamo per vivere questo momento di grande gioia.